Anche il Duomo di Pavia deve fare i conti con i rincari delle bollette, del resto basta osservare questi enormi e maestosi spazi per immaginare quanto possa costare riscaldare ed illuminare ogni angolo. Occorre dunque moderazione, come sottolineato dal parroco della cattedrale Don Gianpietro Maggi. Sarà proprio un po' così, dovremmo moderarci circa l'utilizzo della elettricità, ma sarà la luce dello spirito che ci illumina e che ci raduna attorno all'altare del Signore. Certo, tutto in maniera più essenziale perché le previsioni ci fanno calcolare con prudenza e parsimonia quella che sarà anche la gestione degli spazi interni della cattedrale. L'illuminazione a LED e le ampie aperture nella cupola del Duomo aiuteranno a garantire un po' di luce a basso costo, visto che per la maggior parte della giornata l'impianto resterà spento per cercare di abbassare i consumi. Per questo il parroco chiede comprensione ai fedeli. D'altro canto siamo persuasi che anche la Chiesa in questi momenti sta condividendo con tutto il popolo santo di Dio tante fatiche, comprese quelle della gestione immediatamente più familiare per quanto riguarda le spese domestiche, penso appunto alla luce e al gas. In queste settimane inoltre stanno terminando i lavori di restauro della cripta bravantesca, uno spazio più raccolto e facile da illuminare e riscaldare. Proprio qui verranno celebrate le messe nei giorni feriali per evitare l'utilizzo degli ampi spazi della cattedrale. La cripta della cattedrale sarà ottimizzata per le celebrazioni per lo più feriali, alla domenica si confiderà nella comprensione della gente, anche se non ci sarà quel tepore che forse ci si aspetta, ma ci si farà riscaldare dalla parola e dai sacramenti che andremo a celebrare.